Buongiorno, sono Samantha Tita e mi occupo di consigliare migliori strumenti digitali agli albergatori per migliorare la loro vendita online e offline della struttura alberghiera. Il videocorso che vi presenterò si chiama Come migliorare la guest experience con CRM e marketing automation. Andremo quindi a vedere che cosa significano questi nomi, come vengono verticalizzati, implementati in una struttura alberghiera. Imparerete quindi come ottimizzarne l'uso e perché dovreste farlo. E in ultimo scoprirete come la personalizzazione può veramente fare la differenza anche nella vostra brand loyalty, nel passaparola e il buon nome della vostra struttura.